Sata Assicurazioni, insieme a te, nello sport e nella vita. Ciao a tutti, ormai l'8 marzo si sta avvicinando e il Just a Woman IM, il primo grande evento sotto la mole, organizzato dal Custorino e dedicato al mondo delle donne dello sport e alle porte. Oggi siamo qua da McBoon in compagnia di tre atleti torinesi che hanno scelto di non mancare. Dalila Domizzi, capitano della Piramis Torino, Cristina Rasario, atleta di canottaggio del Custorino e Luisa Trombetti, nuotatrice della Rarinantes. Andiamo a incontrarle, perché anch'io, come loro, ho scelto di non mancare. Scegli 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 di non mancare. Senti, cosa ne pensi dell'evento organizzato dal Custorino Just a Woman IM? Io credo sia una bellissima iniziativa l'abbinamento donna sport. Penso sia un'ottima occasione per far capire alla gente che donne e uomini nello sport dovrebbero essere considerati allo stesso modo. sicuramente è una bellissima cosa che porterà di nuovo un po' di movimento nella nostra città. In realtà penso che nello sport non ci siano differenze, come non ci dovrebbero essere differenze di razze. Le donne sempre di più siano legate a grandi successi. È una cosa che sicuramente inorgoglisce tutti. giusto dare importanza alla figura della donna. E poi credo che comunque le donne nello sport stiano facendo delle cose eclatanti. Si è visto adesso anche a queste ultime Olimpiadi. Scegli di non mancare Scegli di non mancare Scegli di non mancare Scegli di non mancare